Questo pomeriggio a partire dalle 17 Telemolise seguirà in diretta il primo Memorial Gino Scasserra. L'Associazione Artistico-Culturale Talenti e Artisti Molisani ha organizzato per questo pomeriggio il primo Memorial dedicato proprio alla memoria di Gino Scasserra allo Stadio Selvapiana, un personaggio molto noto del mondo sportivo cittadino, prematuramente scomparso nello scorso mese di dicembre. Gino Scasserra, allora capitano del Campobasso negli anni 60 nella Serie D, che era di fatto la quarta serie, l'attuale C2, con la stagione più esaltante vissuta senz'altro nel 63-64. Allora il Campobasso sfiorò la promozione in Serie C, campionato poi vinto dalla Ternana, con una squadra composta oltre da Scasserra dai grandi e indimenticati Sciarretta, Zengaro, Persic e Cordone. Scasserra, successivamente dirigente sportivo sempre del Campobasso negli anni 90, ha sempre avuto una grande passione per il mondo del carcio, rivestendo ruoli importanti anche per società di Serie A in veste di osservatori. Un omaggio che l'associazione presidente Michele Falcione hanno voluto tributare ad uno sportivo, ad un uomo con grandi doti personali. Ma vediamo nel dettaglio il programma della giornata. Dalle ore 16 un triangolare di calcio giovanile con le società del Cusmo Lise, Primavera Calcio Campobasso e Fortuna Calcio Campobasso. Gino Scasserra ha operato anche nel mondo del settore giovanile, lanciando alcuni giovani, che hanno poi calcato anche i campi di Serie D. Pertanto la presenza delle tre società sportive del capoluogo non è stata casuale, ma una scelta appunto voluta dall'organizzazione. A seguire la sfida più interessante, a partire dalle 17.30, quella tra la rappresentativa dei giocatori del Campobasso anni 90 ed una di talenti e attori modisani. Ex giocatori come Giuliano, Matrigiani, Gasbarro, Arcini, Piccolo, Cosco, Scutellà, Bellomo, Adamo, Barometro, Nunziata, che vanno ad aggiungersi ad altre bandiere del calcio cittadino, come Maestri Pieri, Parpiglia, Diriseo, Pronia, Delia, Delibero e Grimani. Confermata la presenza anche del presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, che indosserà la casacca rosso-blu per giocare anche qualche minuto di contro, come detto, la rappresentativa di talenti ed attori molisani. Dunque, tutti in campo, a partire dalle ore 16 con il triangolare, la diretta di Telemolise partirà alle ore 17 con postazioni in sala stampa e da bordo campo. Dunque, un grande impegno della nostra emittente per seguire al meglio e per farvi seguire al meglio il primo Memorial Gino Scasserra, appuntamento alle ore 17.